cari amiche di tiktok sei benvenuti ah no scusa non è un video di tiktok no ma ormai ci hai fatto la bocca no ormai sto facendo solo video di tiktok guarda che sei una star io lo so che tu non controlli cari amiche di tiktok adesso che su temptation island sta succedendo cosa sta succedendo su temptation island esatto ma oltretutto tu non vedi neanche i commenti secondo me tutti ti dicono sotto tiktok ah ah che marpione che ti rivolgi solo alle donne non hanno capito un cazzo ma no io volevo triggerare gli omofobi non sono riuscito non hanno capito che la tua che tu ne fai una questione di genere tutti ti scrivono mi puoi salutare anche me se anche sono una donna e non ho le tette era perché allora la verità era che non so pronunciare lo schwa e quindi ho detto uso direttamente il femminile così per fare diverso io non sono d'accordo con la schwa la schwa non mi vede d'accordo questa cioè la lingua è quella che è e adesso non è che possiamo adesso io imparo a dire lo schwa cioè non è che sarà molto bello esatto però nel frattempo uso il femminile va bene basta con questo maschile che ci ha ma comunque ma comunque gai brush oggi abbiamo un puntatone non perdiamo altro tempo c'è che la c'è che la benvenuti amici ciao gai brush siamo dovuti partire abbassando il cui medio perché oggi una puntata è molto difficile e quindi per compensare mamma mia mamma mia oggi veramente livello iper uranio caro amico mio siamo molto felici perché queste sono quelle puntate che ci danno soddisfazione io l'aspettavo da un anno lo so lo so lo so ma ne parleremo ne parleremo tra un pochino benvenuti amici episodio numero 26 quinta stagione del bitcoin italia podcast lo show quello lì gai brush quello che parla in bitcoin in lingua italiana quello che lo ha fatto prima di tutti quello con lo scojones no esattamente sì oggi abbiamo anche pure l'ospite internazionale che però era in italiano fortunatamente madò madò ma non mi spoilerare subito tu sei sempre lì che ficchi il tuo nasone i tuoi dreadlock lì dove non dovresti no senti gai brush perché in realtà oggi celebriamo la prima puntata di luglio caro amico mio giusto giusto call to action call to action abbiamo passato la china e abbiamo superato la metà anche di questa quinta stagione caro inizia inizia q3 inizia il secondo semestre dell'anno quello dove i fallimenti del primo semestre diventano i successi del secondo esattamente proprio così esatto e non solo gai brush ci ci avviciniamo ormai a grandi passi ad agosto e quindi alle immancabili summer edition del bitcoin italia podcast che ormai sono una tradizione e anche quest'anno non ci possiamo assolutamente permettere non ci permetteremo mai anzi esatto di non consegnare oltretutto caro amico mio questo qui è un agosto un po particolare perché per la prima volta nella storia del bip show è un agosto con cinque giovedì cinque giovedì quindi avremo ben cinque puntate divertenti sotto l'ombrellone esatto e quindi abbiamo deciso di preparare per voi una forma di summer edition ibrida ci saranno due episodi attesissimi perché tornano i racconti di gai brasciazzi grande romanziere grande romanziere misteri sotto l'ombrellone sempre a tema bitcoin ovviamente misteri sotto l'ombrellone del professor gai brasciazzi ragazzi una roba pazzesca non sapete che cosa vi aspetta ma soprattutto gai brush per quello che riguarda gli altri tre episodi della summer edition a grande richiesta torna la posta del cuore del bitcoin italia podcast vai la posta del cuore caro bip show esattamente quindi ragazzi quest'estate risponderemo alle vostre domande alle vostre domande quindi mandatecele scriveteci mandateci un'email a show piocciolabip.show con le vostre domande la regola vuole che l'oggetto della mail debba essere caro bip show mi raccomando ricordatevi bene questa cosa mandatevi le vostre mandateci le vostre domande e noi in maniera assolutamente autocratica e centralizzata sceglieremo a nostro gusto a quali rispondere a quali no ci riserviamo questo questo ruolo l'anno scorso non siamo riusciti a rispondere a tutti perché erano tantissime veramente le domande però è stato bello lo stesso è stato bellissimo quindi mi raccomando avete un mese di tempo per inviare le vostre domande al show chiocciolabip.show oggetto posta del cuore se sarete fortunati e se la vostra domanda sarà stuzzicante troverete le nostre risposte nella summer edition 2023 del bitcoin italia podcast cari amici cari amici se non avete niente da fare e sicuramente non avete niente da fare il 20 21 ottobre 2023 venite al plan b forum a lugano la conferenza europea di più di più alto risalto e nonché ultima occasione unica occasione mondiale per vedere nick zabo perché è l'unico l'unico posto in cui va ho visto ci saremo anche noi al palco 21 replicheremo il fortunato esperimento che abbiamo fatto l'anno scorso saremo all'esterno un palco totalmente gratuito con l'obiettivo di avvicinare al mondo bitcoin chi di bitcoin non sa nulla o non vuole sapere nulla o fare esistenza oppure anche è uno shitcoin portateci anche voi amici shitcoin tenteremo di convertirli i biglietti vi ricordo che sono in vendita sul sito plan b punto lugano punto ch in tre diverse diciamo fasce di prezzo student peer cyberpunk tutto compreso affrettatevi perché questa è la quarta ondata di biglietti e quindi il 31 luglio aumenteranno di prezzo ancora quindi se non volete pagare tantissimi franchi comprate adesso il vostro accesso ci vediamo a lugano e nel territorio della più simpatica e pimpante amministrazione comunale d'europa oh amico mio molto bene è arrivato è arrivato quel momento lì senti sentimi a me questa è una di quelle puntate che ci ci appuntiamo come una medaglietta al petto perché chi l'avrebbe mai detto quando abbiamo iniziato tanti anni fa a fare questa cosa io e te nella nostra cameretta mentre ci schiacciavamo i brufoli ti ricordi il nostro bagnetto cieco esatto che dopo dopo un po di anni avremmo potuto chiamare un personaggio di questa levatura che noi stimiamo talmente tanto e lui ci avrebbe detto sì certo che vengo molto volentieri effettivamente se torniamo indietro del tempo e lo diciamo il guy brush del passato non ti crederebbe mai e perché guy brush descriviamo prima di annunciare il nome di chi di che personaggio stiamo parlando un builder vero un builder vero abbiamo all'onore oggi di avere un ospite internazionale lui parla quattro cinque lingue tra cui anche fortunatamente l'italiano quindi questo mi permette di interagire con lui senza sembrare super mario lui è pensate il primo phd del mondo per quanto su proprio su bitcoin con una tesi di dottorato scalabilità e sicurezza nel campo bitcoin è contributor bitcoin core da tempo in memore dal 2009 praticamente sviluppatore a blog stream al momento attuale è ingegnere capo di core lightning una dell'implementazione lightning che usiamo anche noi stessi inventore insieme a rasti rassle o la o la ulubua o zunto kun dei famosi canali l2 un protocollo di secondo livello di bitcoin quindi e questi sono solo alcuni delle sue dei suoi meriti dei suoi contributi al nostro ecosistema sto ovviamente ovviamente parlando di se non lo sapete già perché avete vissuto sotto un sasso negli ultimi dieci anni di christian decker che cosa abbiamo christian decker abbiamo christian decker ma mi vuoi dire che è già collegato con noi ciao christian benvenuto al beep show ciao grazie grazie mille per l'invito che emozioni esatto christian ti devo subito chiedere di andarci piano perché guy brush sono tre settimane che è emozionato all'idea di intervistarti e di averti ospita al nostro show quindi mi raccomando eh sono tre settimane che vi preparo le domande quindi ho una lista di duemila domande quindi questa puntata di bitcoin italia podcast durerà 14 ore e essere sincero sono sono nervosino anch'io perché oramai non è non è che parlo spessissimo italiano quindi ogni tanto mi mancheranno le parole no no preoccupare tanto anche a noi mancano le parole anche noi parliamo italiano male ricordiamo che christian è l'ospite internazionale del bitcoin italia podcast che però parla italiano per venire incontro le mie ridotte facoltà mentali allora ciao christian intanto grazie mille per la pazienza che hai avuto nel rispondermi su ball 2 building on layer 2 la community lanciata da blog stream che avevamo raccontato anche scorso autunno nel 2022 quando avevate pubblicato il manifesto anzi amici già che ci siete in linea vi ho parlato di questo iscrivetevi se siete operatori di nodi o sviluppatori perché è una community molto interessante ci sono meeting di settimanali aggiornamenti potete anche stalkerare gli sviluppatori per delle con delle domande pertinenti chiaramente quindi grazie come come la vedi questa community sta crescendo ma a me piace moltissimo perché è sempre bello interagire con con gli utenti e anche imparare le cose che funzionano e quelle che non funzionano la seconda parte quasi la parte più importante no perché informa quello che che faremo andando avanti vediamo sempre un pacco di di attività sia sia di debugging dove dove aiutiamo gente ma anche gente che presenta un pacco di di applicazioni nuove che che sono interessanti che noi non avremmo mai immaginato no sì sono belle anche le sessioni di live coding ho visto assolutamente assolutamente a toni fa un lavoro eccezionale a a spiegare diverse cose che avevo programmato quattro anni fa e non ci ho avuti pensato quindi bello rivisitare questi dettagli allora partiamo con la prima domanda immagino che tu il tuo tempo la maggior parte del tuo tempo ti occupi di core lightning corretto esatto sì sono sempre nel team di core lightning e la specificazione di lightning volevo chiederti secondo te con l'adozione della tecnologia proposta dal lightning network stiamo andando troppo lentamente a causa di i famosi colli di bottiglia tecnologici perché spesso si dice eh non ci sarà mai abbastanza spazio on chain perché ogni abitante della terra possa aprire un canale lightning oppure anche il lightning network non scalerà mai a miliardi di utenti qual è secondo te oggi il problema più grande che ha il lightning network ma bisogna bisogna prima di tutto dire che ha la il lightning network non è la soluzione finale che 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 darà accesso a tutti tutti gli abitanti del mondo ma è un sistema che ci che ci aumenta la capacità della della rete bitcoin di alcuni ordini di grandezza partiamo parliamo di dieci cento magari mille ex della capacità di servire utenti su bitcoin on chain non non abbiamo mai detto che sia la soluzione finale che ci permette di di adottare a livello a livello globale miliardi di utenti oppure oppure persino avere avere pagamenti interplanetari chissà cosa per per questo avremmo bisogno di altre di altre soluzioni il lightning network ci dà comunque la possibilità di estendere l'uso di di bitcoin a magari milioni di utenti e oltre a quello avremo bisogno di nuove tecnologie tecnologie sulle quali stiamo tra l'altro già lavorando non è che non è che siamo siamo via non facciamo niente ci divertiamo a fare tra queste proposte ci sono ci sono cose estensioni del del lightning network tipo il protocollo l2 che abbiamo presentato quattro anni fa cinque anni fa qualcosa del genere e ci sono altre soluzioni che prendono una strada completamente diversa parliamo per esempio di arc oppure di 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 side chain che hanno delle caratteristiche completamente diverse bisogna comunque anche dire che lightning non ha soltanto l'obiettivo di essere più scalabile a per dire a estenderla la supporta a più gente ma abbiamo anche dei trade off che sono completamente diversi io quello che cito di solito sono 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 la privacy che sicuramente guadagniamo un attimino non lasciamo più una traccia permanente delle nostre interazioni su una block chain come come è il caso del caso di beyond chain ma abbiamo un sistema interattivo dove la traccia che lasciamo sul sulla block chain è la somma di tutte le cose che sono che sono capitate e tirar fuori la la transazione individua è molto difficile da da questo sketch quindi in pratica abbiamo abbiamo una privacy un pochettino io direi migliore eh sì però sicuramente diversa da da on chain dall'altra parte abbiamo interazioni in real time no che su on chain sono abbastanza ridicole perché io non non è che vado a far la spesa e poi mi siedo alla cassa aspetto un'ora per il mio pagamento che che venga confermato a me è capitato io a me è capitato cristiani nel salvador quando non andava il lightning network su civo è stato uno dei momenti più imbarazzanti della mia vita ha bloccato la cassa per un'ora continuavo a fare replace by fee credo di avere speso 10 dollari in replace by fee solo nella speranza che bitcoin confermasse un blocco è stato un incubo e immagino è stata almeno una spesa un pochettino sostanziosa oppure era per un caffè ma no no la spesa era abbastanza sostanziosa però la cosa che mi ha stupito lo racconto bene sul mio libro è che erano tutti sorridenti anche se c'era una coda infinita alla cassa se faccio una cosa così a milano mi accoltellano dopo tre minuti e invece nel salvador guardavano tutti questo questi due folli che provavano a pagare in sta roba e se la ridevano tranquillamente ritmi sud americani centro americani insomma immagino immagino instant settlement comunque in effetti è fondamentale per il metodo per come metodo di pagamento che si possa utilizzare nella vita reale assolutamente sì io classico che esempio che faccio è vado vado a prendermi un caffè al bar e ora che il pagamento è andato il caffè è freddo no non è mai una buona esperienza direi no almeno che ci metti un po di ghiaccio un po di gelato esatto il caffè freddo d'estate caffè shakerato d'estate un bello affogato senti tu nella tua risposta mi citavi diversi altre soluzioni tipo arc di burac e non diciamo spesso che lo stesso satoshi fu il primo a ipotizzare un protocollo diciamo abbastanza elementare di rinegoziazione delle transazioni prima che vengano scritte utilizzando sufficiente un numero sequenziale che però aveva diversi evidenti problemi di sicurezza perché non era detto che il miner avrebbe usato questo numero come transazione finale poi siamo passati per i famosi canali drijapum che sono i canali lightning quelli che usiamo per la maggior parte ci sono i canali famosi canali decker russell osuntokun cioè i canali il tu è più bello il tu come nome perché decker russell osuntokun è un po troppo lungo i canali enigma i canali arc insomma ci sono diverse proposte che si pongono come obiettivo di migliorare questa scalabilità nel sistema bitcoin ma questi protocolli possono convivere o ce ne sarà uno che dominerà sugli altri per ragioni tecnologico di mercato ma diciamo che più o meno sono tutti nella discendenti della stessa idea di satoshi infatti quando 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 do lezioni sul su come costruire questi sistemi off chain parto spesso esattamente dai da sequence number che che satoshi aveva già dentro il codice nel 2009 come hai accennato la sicurezza di questi non era non era proprio la migliore o diciamo era inesistente e poi ci sono stati simple micropayment channel di di mykern touch dryja e vabbè lightning l2 arc tutti questi sono tutti i sistemi dove dove in pratica partiamo dal dall'idea ok abbiamo una transazione che sarà valida in futuro quindi noi possiamo tenercela nel 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 pocket e poi la facciamo la renegotiation e abbiamo abbiamo uno uno stato nuovo che possiamo poi manifestare su sulla chain e scartare tutte tutte le cose che ci sono state in mezzo la difficoltà sta proprio nel nel nell'essere sicuro che una versione vecchia non può essere confermata noi ci divergiamo la attimino nelle diverse direzioni però sono comunque tutte le stesse basati sulla stessa idea di vabbè ci ci teniamo ci teniamo una transazione da parte ci mettiamo d'accordo tra tra noi due come come spendere una moneta che è condivisa tra noi due oppure nei sistemi multi parti channel più utenti ancora no e l'idea comunque sempre la stessa e però ci come hai detto correttamente ci sono diverse varianti di questo e possono assolutamente con convivere convivere no convivere ok ecco vedi le parole che mi mancano sì 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 ed è ed è ed è comunque una delle dei vantaggi che che cito cito spesso nei sistemi off chain è proprio il fatto che possiamo costruire della della logica delle applicazioni sulla base di bitcoin però senza dover spingere le nostre modifiche nel layer bitcoin e quindi noi abbiamo un trovato un metodo con cui possiamo sperimentare e vedere cose che cose che funzionano e gli unici che devono essere che devono esserne al corrente sono i partecipanti di questo di questo contratto in pratica quindi se noi noi tre adesso ci mettiamo d'accordo e creiamo un canale il tu non solo noi tre dobbiamo dobbiamo sapere di cosa si tratta di cosa sono le regole e di che messaggi scambiamo la rete bitcoin non non gli interessa proprio niente però significa anche che io posso posso andare da un'altra parte aprire magari a un gruppo arc oppure un un canale lightning e però non non hanno di per sé un'interazione possiamo rintrodurre questa questa interazione se vogliamo fare pagamenti attraverso molti sistemi molti ok quindi è possibile sia un futuro in cui diversi protocolli ereditano le proprietà fondamentali della blockchain di bitcoin senza però andare a scrivere effettivamente la blockchain e prendono diciamo proprio strade diverse come se fossero circuiti di pagamento diversi ma è anche possibile che ci sia un futuro in cui diversi protocolli siano interoperabili tra loro assolutamente alla fin fine abbiamo un po' una competizione tra diversi diverse proposte che hanno dei trade off che sono leggermente diversi la possibilità di interagire tra questi protocolli è quello che ci dà la possibilità di introdurre o di scartare un'idea che salta fuori vabbè non è proprio l'ideale e quindi ci sarà sempre un pochettino uno sviluppo di background dove un sistema vecchio viene rimpiazzato da un sistema un pochettino più nuovo però abbiamo comunque ancora la possibilità di interagire tra tutti perché il valore di una rete viene proprio dal fatto dal numero di interazioni che possiamo fare io se creo una rete lightning di 10 persone questa non è che ha tantissimo valore però se creo una rete di 15.000 persone è tutto ad un tratto abbiamo un gran valore che possiamo sfruttare l'utilità della rete più grande è più grande ok hai parlato di L2 appunto di un protocollo al quale siete al lavoro che roadmap c'è nella tua testa o ufficiale per quanto riguarda l'implementazione immagino che sia lunga perché dal pubblicazione del paper del 2016 mi pare no forse 2016 a quando effettivamente potremmo usufruire di applicazioni su questo protocollo delle diretture cos'è che manca qual è il prossimo passaggio vediamo un attimo abbiamo cominciato a parlarne nel 2016 il paper l'abbiamo pubblicato nel 2018 e giusto dopo abbiamo abbiamo pubblicato anche la proposta BIP 118 che sarebbe si chiamava no input però l'abbiamo rinominata a diventare any private però è sempre la stessa proposta e da quel punto in poi stiamo aspettando più o meno che ci sia una massa critica che ci permette di attivare any private su bitcoin adesso dicevo prima che grazie al fatto che usiamo off-chain protocol non abbiamo bisogno di fare modifiche su bitcoin vero e proprio però questo qui è una modifica che vogliamo avere in bitcoin semplicemente perché ci dà più flessibilità poi per poter implementare cose al di sopra di bitcoin quindi è un pochettino una situazione speciale il fatto che diventa parte di bitcoin è anche la cosa che rende la cosa un po' difficile semplicemente perché modifiche bitcoin è un sistema che controlla miliardi e miliardi di euro in pratica se adesso noi andassimo e facciamo modifiche così perché rischiamo di mettere questi fondi a rischio cosa che sicuramente non vogliamo dall'altra parte questo fatto che siamo molto rigidi in cosa accettiamo in bitcoin significa anche che vogliamo avere vogliamo attivare soltanto la miglior possibilità che possiamo avere quindi se ci sono diverse possibilità che hanno un certo overlap di funzionalità e uno oppure l'altro può servirci per costruire L2 oppure per altri sistemi allora vorremmo sicuramente che prendiamo la soluzione più efficiente quella più pulita quella più flessibile e lì certamente abbiamo un pochettino stiamo cercando quale delle proposte ci sono c'è OpsiTV, c'è OptX, c'è AnyPrevout, c'è SecureTheBag ci sono un pacco di queste proposte è discussa e analizzata già da tanto mi sembra quella che ha una trazione maggiore per quanto riguarda il consenso nel senso che è già stata analizzata molto profonditamente credo anch'io perché AnyPrevout chiaramente è la mia proposta devo dire quindi sarebbe ottimo per il mio ego se venisse attivata però alla fin fine quello che ci interessa è avere i mezzi per poter realizzare alcune di queste proposte e quindi ogni nuova proposta deve essere analizzata e dobbiamo vedere cosa sono i vantaggi e i svantaggi rispetto a AnyPrevout per esempio AnyPrevout è veramente l'idea di AnyPrevout era proprio facciamo il minimo cambio possibile per poter permetterci alcune costruzioni mentre altre proposte erano un pochettino più larghe hanno avuto un pochettino più scope altri usi e la cosa interessante è che proprio AnyPrevout fino adesso è riuscito quasi in ogni caso emulare queste altre proposte quindi usando AnyPrevout riusciamo comunque ad avere le cose che queste altre proposte propongono magari a un prezzo leggermente più elevato ma sarebbe possibile è anche un problema che non possiamo veramente non possiamo veramente applicare pressione agli sviluppatori Bitcoin Core perché se facessimo pressione per accettare AnyPrevout la risposta sarebbe un pacco di sviluppatori Bitcoin Core che finiscono in burnout e quindi che vanno un pochettino ci costerebbero sviluppatori vedi la proposta di CheckTemplateVerify che è stata spinta in maniera molto forte da Jeremy Rubin l'anno scorso e ci sono stati diversi passi indietro ecco quella lì per esempio è una proposta che aumentava talmente tanto la superficie delle funzionalità in Bitcoin che era davvero impossibile andare a prevedere tutti gli effetti futuri eccetera però la domanda che faccio quello che hai detto tu è che AnyPrevout appunto ha un impatto minimo su Bitcoin il protocollo quindi non capisco che cosa manca ecco per raggiungere questa massa critica ma tu adesso dici che CheckTemplateVerify aveva una superficie molto grande però siamo anche riusciti a prendere AnyPrevout e avere un pacco degli usi che veniva usato come esempio per CTV siamo riusciti a ricostruirlo quindi la superficie sulla quale abbiamo impatto non è poi così piccola di quanto pensavamo ci sono sempre usi molto creativi delle proposte e quindi anche lì non sono sicuro che abbiamo capito completamente qual è la superficie il problema che avevo con CTV è un pochettino che veniva che veniva che veniva chiamato un pochettino il rimpiazzamento per AnyPrevout che poteva darci il tu il problema è che CTV è solo un rimpiazzamento parziale di AnyPrevout e quindi pubblicizzarlo come rimpiazzamento completo di AnyPrevout era un pochettino disingenuo forzato ci vuole massima cautela io mi ricordo benissimo Cristian l'esempio che tu e Gloria Zhao la metafora che voi avete fatto sul palco della surfing bitcoin noi ci sentiamo come un gruppo di tecnici che sta facendo delle modifiche all'aereo mentre è in volo coi passeggeri a bordo secondo me è calzantissima questa metafora effettivamente ogni tanto ci sentiamo un pochettino come piloti e ingegneri allo stesso tempo però a differenza di un pilota abbiamo veramente poco input sulla direzione dove va il resto della community quindi siamo sempre un pochettino in cerca di la community cosa vuole com'è che riusciamo a implementarlo in modo ottimo quindi sì siamo un pochettino gli ingegneri sull'aeroplano che però non hanno chissà cosa da dire sulla direzione il pilota è automatico però esatto il pilota è un'interpretazione del sentimento di tutti i passeggeri nell'aereo allora io non sono non ho la testa dentro ai protocolli come te però l'idea che mi sono fatto io da esterno che ho letto e studiato superficialmente il weight paper è che comunque L2 sia meglio di Lightning Network dei canali Lightning io ho questa idea qua per diversi motivi per il backup soprattutto per uno stato che Lightning deve continuare noi operatori di nodi dobbiamo continuare a memorizzare lo stato totale di tutto quello che è successo all'interno del nostro nodo mentre con L2 no per esempio questo secondo me è un problema che emergerà tra qualche anno quando i nodi avranno più tempo di più uptime e quindi mi sono sempre detto ma come mai se L2 è migliore da diversi punti di vista non è quello che stiamo usando guarda vantaggi di L2 ne ho un pacco ho passato quasi un anno soltanto fare pubblicità per L2 quindi ce ne sono ce ne sono parecchi il fatto che ci mancano un pochettino i mezzi per poterlo realizzare questi mezzi sono proprio Any Prevout e Any Prevout alla fin fine è una dipendenza esterna per noi sviluppatori Lightning e bisogna bisogna fare in modo che bisogna pubblicizzarlo in modo tale che tutti ne siano al corrente e bisogna diventare un pochettino naturale per tutti che Any Prevout sia parte della rete bitcoin penso che una volta che tutti in pratica assumono che Any Prevout c'è già cosa che chiaramente sta succedendo a un certo punto sarà un assoluto no brainer attivarlo oppure un'alternativa che ci dà la stessa funzionalità non voglio limitarci a una proposta singola ma magari ce n'è una che ci copre i nostri usi e anche altre cose che possiamo fare interrompiamo però un attimo ragazzi pausa perché questa conversazione interessantissima deve per forza lasciare il passo a Bitbox 02 Guybrush il miglior hardware wallet sul mercato dal nostro punto di vista stiamo parlando di bitcoin della tecnologia di bitcoin della sua scalabilità sui layer successivi ma la cosa fondamentale è avere una custodia corretta dei propri satoshi on chain ed è proprio per questo che noi ve lo consigliamo da tanto tempo per il suo form factor sembra una chiavetta quindi o sapete che cos'è o un eventuale ladro lo butterebbe via immaginando che sopra ci siano le vostre foto della vacanza estiva per la comodità e la facilità con cui si interagisce con questa chiavetta un display e tasti touchscreen comodissimi e futuristici da usare per la facilità con cui si interagisce con l'app ufficiale di beatbox la beatbox app la potete provare se non ci credete sul sito dell'azienda beatbox punto swiss e poi ci piace sempre ricordare oltre alla sicurezza dual chip che è il cuore pulsante del beatbox anche la comodissima micro sd card sulla quale beatbox può fare una copia in più delle vostre chiavi private è opzionale non è obbligatorio farlo si può bypassare ma secondo noi è uno strumento di backup comodissimo perché la micro sd è veramente semplicissima da nascondere e insomma occorre proprio avere voglia di provare per capire che lì sopra ci sono salvate anziché delle foto ancora una volta le vostre chiavi private insomma beatbox punto swiss è il sito dove potete scoprire tutti i dettagli di beatbox a 0 2 poi acquistarlo col 5% di sconto è possibile grazie al codice bipshow raga abbiate cura dei vostri bitcoin con beatbox a 0 2 parlando quindi di implementazioni del protocollo per esempio l'ultima che abbiamo avuto è il famoso soft fork taproot ormai di due anni fa mi pare di due stati fa e anche quella fu una proposta discussa in lungo e in largo in tutti i suoi mini in particolari mi ricordo una discussione su come mettersi d'accordo sul meccanismo dell'attivazione ma non solo anche su che orario come scegliere l'orario da utilizzare per sapere il momento esatto in cui sarebbe stato attivato quindi è stata discussa proprio in ogni minuzia in ogni particolare però è stato anche abbastanza corposo come soft fork come incremento delle funzionalità sono state aggiunte le firme aggregate di snor i canali anche i canali pay to tap sono stati ipotizzati i contratti ptlc al posto di quelli htlc che usiamo ora per lightning e altre ancora adesso non faccio l'elenco per notte agli ascoltatori però da quello che vedo io secondo me siamo ancora in una fase molto embrionale cioè non sono arrivate ancora tante funzionalità all'utente finale secondo te a che punto siamo da questo punto dell'impatto che può avere Taproot anche sul lightning network certo sì è stato è stato assolutamente un cambio gigantesco perché con tutte anche lì c'erano diverse proposte che venivano analizzate finché abbiamo alla fine detto guarda Taproot è un è praticamente un superset di tutti gli altri tra cui anche cose tipo Graffroot e chissà cosa il Taproot è abbastanza carino perché ci permette un pacco di cose molto molto belle come come hai già detto i PTLC ci danno ci danno cose tipo stackless payment cioè pagamenti dove che posso che posso abbandonare senza rischiare che vengano poi confermate comunque quindi posso riprovare pagamenti che sembrano fallire senza rischiare che un nodo e mezzo ci tenga il nostro pagamento come hostage con Musig e Taproot possiamo nascondere cose tipo la fondazione di canali cosa che al momento ci serve per limitare un pochettino lo spam sulla rete e anche lì abbiamo delle soluzioni che stiamo ricercando che ci permettono comunque di limitare spam senza dover indicare esattamente guarda che questi qui sono i miei fondi informazione che alla fine potrebbe essere usato da cene analysis e altre ditte per associare fondi a delle identità nel mondo reale e cioè queste novità ci sono e ci stiamo lavorando però come sempre ci vuole un attimino perché queste cose vengano realizzate infatti già giusto settimana scorsa ero a New York per il meeting della specificazione di Lightning e i temi principali erano proprio canali taproot e ptlc come li facciamo e dall'idea astratta sono cose che sono abbastanza ovvie da fare però il dettaglio sono sempre ci sono sempre un pacco di cose da discutere e dato che Lightning è un protocollo che viene implementato da un numero di implementazioni è meglio che se troviamo una decisione da fare bisogna mettersi d'accordo con tutte le implementazioni oltre a questo c'è anche un backlog abbastanza gigantesco per tutte le implementazioni che deve essere terminato prima di poter introdurre un nuovo sistema tipo canalità per utenti tlc però ci stiamo lavorando è sempre un pochettino un processo e c'è sempre un pochettino di lag dietro l'introduzione di una tecnologia che ti permette di fare qualcosa fino al primo uso di queste tecnologie e quindi non credo sia un argomento per rallentare l'introduzione di nuove cose tipo Anyprevauto OpsiTV perché se in ogni momento aspettassimo che tutto il potenziale venga usato non faremo mai un altro passo avanti bisogna sempre avere questo tempo per poter ricercare e trovare delle alternative e proporle e standardizzarle e implementarle e quindi sì non è che mi faccio tanti problemi è che siamo un po' lenti tranne che vorrei avere questi feature certo certo mi riferisco anche a volte all'opinione più conservatrice di John Carvalho per esempio che per lui invece bisogna prima sviluppare le cose che abbiamo già e poi possiamo pensare ad aggiungere cose però vabbè sono posizioni differenze non potremmo mai avere essere tutti d'accordo è anche il bello della tecnologia ecco prima parlavi di diverse implementazioni ho una domanda più da sviluppatore ecco le famose battaglie tra le scelte tecnologiche che si fanno anche l'editor di testo che si usa cose di questo tipo perché tempo fa un altro sviluppatore noto è Luke Dasher parlava in merito a quando ci sono stati noi li abbiamo raccontati tutte e due le due volte in cui Burak aveva fatto crashare l'implementazione di Lightning Labs semplicemente andando a superare dei limiti imposti come costanti all'interno del codice e riferendosi a questo parlava del fatto che nelle diverse implementazioni al momento attuale le maggiori sono tre sono LND di Lightning Labs Core Lightning appunto quella di cui ti occupi tu a Blockstream e Eclair di Async mi pare si chiama e sono tre implementazioni in tre diversi linguaggi LND in Go Core Lightning in C e Eclair in Scala che mi viene paura solo a pronunciarlo poi vabbè ce ne sono altre più piccole Rust Last Lightning poi c'è quella di Electrum quella di LNP di Orlovski non so in che linguaggio è comunque il concetto è che Luke Dashev diceva che la scelta di un linguaggio dice anche molto dell'approccio mentale che hanno gli sviluppatori stessi cioè la scelta di usare C che è un linguaggio forse più rigoroso intanto più più vecchio semplicemente di Go e quindi già più percorso le vulnerabilità sono note i difetti sono noti e quindi proprio facciamo un discorso di sicurezza proprio diceva l'implementazione in C o in C++ è più sicura in virtù del fatto che l'approccio mentale dello sviluppatore stesso è più rigoroso e più rigido in Go invece molto probabilmente tante cose vengono lasciate un po' più approssimate ecco tu cosa ne pensi di questa opinione? penso che sia un commento abbastanza cattivo fino a un certo punto posso essere d'accordo che sicuramente come sviluppatore c'è un pochettino l'ansia che si potrebbe fare qualche errore e che quindi bisogna fare un pochettino più attenzione magari di altri linguaggi però in questo caso è proprio stato il fatto che ci sono state delle verifiche dentro il codice LND che erano un pochettino fuori posto e possiamo fare degli errori simili in qualsiasi linguaggio non credo che sia la scelta del linguaggio qui che abbia avuto questo side effect negativo credo che più che altro è il fatto che LND ha dovuto rimplementare un pacco di cose tipo hanno rimplementato l'intera applicazione Bitcoin D col loro codice BTCD ed è stata parte di BTCD che è stata riutilizzata in LND che ha causato questo crash e quindi è semplicemente la superficie molto più grande che hanno dovuto programmare che hanno dovuto rendere sicuri che ha introdotto questo errore penso che un programmatore in qualsiasi linguaggio può scrivere delle cose che sono assolutamente insicure e un altro programmatore può scrivere delle cose che sono assolutamente sicure anche in Assembler oppure Python non credo che sia così chiaro così black and white che uno è meglio dell'altro allora l'ultima domanda che sono troppo lunghi che ho sbirciato tra tutte le tue pubblicazioni e la prima che ho trovato o una delle prime non lo so me lo direi tu si intitola Exploring and Improving BitTorrent Technologies tu hai diverse pubblicazioni non ultima la tua discussione del dottorato di ricerca ricordiamo che tu sei il primo dottorato il primo PhD in Bitcoin del mondo all'università di Zurigo beh comunque questo è Exploring and Improving BitTorrent Technology quindi andavi a esplorare un protocollo peer to peer forse il più famoso ormai che è quello di BitTorrent allora io e te abbiamo più o meno lo stesso abbiamo 40 anni ormai quindi ci siamo sparati tutta la cronistoria dei vari protocolli peer to peer da Usenet Nutella Freenet Cademian Napster e BitTorrent BeerShare BeerShare SlimeWire SoulSeek vabbè ce ne sono tantissimi ne abbiamo visti nascere mille crescere e morire anche altrettanti dopo l'entusiasmo iniziale ora ce n'è adesso uno che sta guadagnando un po' di trazione che è Nostr e tra l'altro ci sono anche diverse proposte di unire Nostr al Lightning Network stesso con i famosi Zapps su Nostr oppure la proposta di cui abbiamo commentato tante volte anche questo in Crowley CivKit Civilization Kit di Ray Youssef che tra l'altro si rifà anche a una proposta antichissima di Satoshi di implementare un marketplace all'interno del codice di Bitcoin cosa che poi è poi stata tolta insomma tu cosa ne pensi dell'approccio che ha Nostr e in generale della direzione dei sistemi peer-to-peer che c'è oggi perché le altre le proposte che io ho reputato sempre più significative anche a questi microfoni sono state quelle di Paolo Orduino della sua Kit e quelle di John Carvalho del suo come si chiama Slash Tag mi pare si chiami cosa ne pensi tu della direzione che sta prendendo i protocolli peer-to-peer ma guarda parlando di Slash Tag e i protocolli di John chiaramente richiamo un pacco di cose che avevamo già visto durante BitTorrent anche perché usano una distribuita da Hashtable che è molto simile a BitTorrent quindi mi fa piacere che questa ricerca venga ritirata fuori e riutilizzata per nuovi usi cosa che di cui ho già discusso un pacco di volte con John penso che alla fine ci sono due approcci al design di nuovi protocolli c'è il mondo molto accademico dal quale salta fuori anche il protocollo BitTorrent perché se non sbaglio Bram Cohen l'aveva creato durante il suo dottorato e Bram Cohen che tra l'altro è ancora in giro nell'ambito Bitcoin ed è sempre stato un protocollo abbastanza pulito abbastanza che è stato concepito quasi in un pomeriggio ed è quindi è molto simile molto consistente con se stesso e poi ci sono protocolli che sono stati creati nel mondo reale che sono cresciuti in modo organico e credo che Noster sia sicuramente tra questi semplicemente perché siamo partiti da messaggi JSON poi li serializziamo poi li firmiamo poi li mandiamo un relay il relay è molto stupido semplicemente fa il broadcast e arriviamo a un sistema che è molto simile già al Noster di oggi e già con questo sistema molto molto semplice abbiamo della funzionalità che veramente è incredibile cosa che salta nell'occhio proprio a tutta la gente che ha già vissuto uno di questi protocolli è che la scalabilità non è che sia proprio ottima però credo che abbiamo la possibilità di migliorare nei prossimi mesi cos'è che intendo con la scalabilità non è ottima semplicemente tutti si stanno connettendo a tutti i relay e che quindi tutti i messaggi passano attraverso tutti i relay e se sono connesso a n relay ricevo ogni messaggio a n volte cosa che chiaramente non è proprio non risparmia bandwidth non risparmia non risparmia processore sul server e tutte queste cose e penso che con un protocollo di broadcast un pochettino più smart salterà fuori che possiamo connetterci a un relay e questi relay tra di loro scambiano anche i loro messaggi in modo targhettato in modo tale da non ricevere ogni messaggio 5 10 volte cosa che ridurrebbe l'uso di batteria sul telefono per esempio ma anche il tempo che il processore sta scartando messaggi doppi in pratica quindi credo che sia un ambiente molto interessante credo che ci sia un pacco da scoprire e che se qualcuno dovesse cominciare un lavoro di master oppure un dottorato su qualcosa del genere possa avere un gran successo cosa che è quello che ho fatto io c'era un tema che era molto interessante per me comincia a leggere comincia a magari discutere sui mezzi sui sulle discussioni pubbliche e a un certo punto diventa il tuo lavoro questo è un bellissimo messaggio in realtà per i gruppi che ci ascoltano e hanno voglia di dedicarsi a questo genere cosa ultima domanda bonus meno tecnica così per alleggerire la discussione christian decker se non ci fosse bitcoin se non fosse stato folgorato da bitcoin nel 2009 di cosa si occuperebbe oggi ma buona domanda sareste un giocatore di calcio caffè secondo me caffetteria caffè vabbè guarda il caffè è ancora una possibilità mi sono sempre detto prima o poi lascerò stare tutta sta pazzia con bitcoin e apro il mio bistro da qualche parte bello noi veniamo sarà tutto pagato in lightning sicuramente lavoreresti ancora con i computer eh quello sicuramente no guarda ho scoperto ho scoperto bitcoin per me proprio quando stavo facendo il mio master in sistemi distribuiti e computazione distribuita quindi più o meno ero già allineato in quella direzione ho fatto il mio master sul su BitTorrent e alla fine ho cercato di tutto per non per non fare il mio hobby bitcoin il mio lavoro chiaramente sono fallito in questo però penso che comunque sarei finito nell'ambito di non solo informatica ma anche ma anche questo ambito di sistemi distribuiti che hanno sempre fatto per me sono sempre stati molto interessanti in effetti ho cercato di una volta che ho finito il dottorato ho cercato di lasciare via tutte le cose bitcoin perché basta con questi giocattoli e adesso bisogna fare un po' di ingegneria vera google però non sono mai finite in modo bene siamo stati fortunati che non ti hanno preso lì ma devo dire che è stato abbastanza frustrante al momento però penso che adesso più o meno sì ho digerito un pochettino la situazione e sono molto contento di essere rimasto con questo tema che comunque è sempre stato quello che mi teneva sveglio la notte si percepisce da come ne parli da come lo racconti si percepisce te lo ricordo il tuo primo computer? il mio primo computer sì cos'era? no era nel 93 un pentium 2 166 megahertz con 128 megabyte di ram mi sembra pentium 2 sei partito dal pentium 2 sì io sono partito dall'8086 l'intel 8086 eh no io ho cominciato tardi ho cominciato veramente tardi non avevo internet fino all'anno voglio dire 99 ma pensa io che cazzo ho fatto in quegli anni lì invece guarda stavo su IRCA a fare lo scemo vabbè eh no io giocare counter strike contro bot counter strike counter strike che tra l'altro si poteva programmare c'era uno scritto anche lì tra l'altro mi pare tu scherzi ma io dico sempre il mio primo linguaggio di programmazione era lo scripting language di counter strike che cos'è che era l'UA no che cos'è non mi ricordo no 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 molto ma molto più facile potevi potevi bindare delle attività a a tasti e potevi avere degli alias e questo era tutto ok quindi quindi tu usavi in pratica i binding sui tasti e gli alias come variabili ed era uno struso incredibile però mi ricordo che passavo due minuti a giocare e un'ora a altabbare fuori per per modificare il mio script e ricaricarlo e vedere cosa si faceva sì alla fine è un pochettino questo che mi ha forzato alla programmazione è una malattia è una malattia è una malattia se hai questa curiosità ti viene facile sì io mi sono sempre divertito quindi mi sto divertendo ancora oggi sei ancora un gamer? il mio il mio gioco preferito oggigiorno è git e questo è bello e l'interfaccia è Emacs ok 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 senti grazie di tutto del tempo che c'hai grazie Cristian grazie mille per avermi che emozione Guybrush che emozione hai capito hai capito Counter Strike lui nasce giocatore di Counter Strike e finisce di diventare il lead developer alla Blockstream io invece ero giocatore di Monkey Island e sono finito al Bitcoin Italia Pod beh dai dai sicuramente là fuori c'è anche a chi è andata peggio super interessante però Guybrush sono davvero contento di avere portato questo contributo in più alla community italiana credo che sia la prima volta che Cristian è ospite di podcast italiano effettivamente non mi ricordo ma in generale in italiano che si rivolge alla community italiana lo fa grazie a noi lo fa con noi e questa cosa ci devo dire inorgoglisce davvero davvero tanto caro Guybrush ci sono delle grandi novità da Pocket Bitcoin Pocket è il nostro servizio preferito per acquistare Bitcoin con procedura di KYC Lite pocketbitcoin.com è il sito che dovete andare a visitare per scoprire tutti i dettagli nelle scorse settimane avevamo annunciato in pompa magna come Pocket stesse lavorando alacremente per introdurre il lightning network nel loro servizio bene bene siamo agli sgoccioli nel senso che nelle prossime settimane arriverà anche in fase beta e quindi verrà diciamo rilasciata prima a dei beta tester selezionati questa funzione che includerà inizialmente anche un servizio di top up lightning da phoenix molto interessante super interessante nel senso che potrete acquistare dei sats su pocketbitcoin e inviarli automaticamente come ricarica al vostro phoenix wallet su lightning network e quindi istantaneamente e con fees bassissime il lightning network sta arrivando su pocketbitcoin che non si limiterà solo ad implementarlo ma anche ad offrire tutta una serie di interazioni next level come quella che vi abbiamo appena discritto se volete essere dei beta tester e avere quindi per primo accesso a queste funzionalità ci si può iscrivere alla mailing list lightning direttamente sul sito di pocketbitcoin riceverete una mail coin inc per essere tra i primi ad avere accesso a tutte queste nuove funzionalità pocketbitcoin it's the way to go bro abbiamo appena finito Guybrush di parlare con christian decker dello sviluppo sul lightning network dei vari layer delle side chain e di tutto il fermento che c'è attorno allo sviluppo di bitcoin per renderlo sempre più scalabile sempre più semplice eccetera eccetera e alla fine Guybrush se ci pensi bene lo scopo ultimo di tutta questa cosa qual è? offrire alle persone là fuori degli use case per portare bitcoin nella loro vita no? c'è una storia molto interessante di cui volevo parlarti che arriva dal Guatemala ed è uno use case di bitcoin che a me ha fatto cadere dalla sedia e vorrei raccontartelo brevemente non so niente allora si parla davvero in questo caso di bitcoin a tutela della democrazia ma nel senso proprio di usare bitcoin come strumento per avere la garanzia che non vi siano state frodi elettorali senti qui parliamo del Guatemala un paese che in passato ha avuto qualche problema in questo senso le le loro elezioni sono sempre state piuttosto discusse ovviamente è un paese centroamericano quindi questo in un certo qual modo ce lo si può anche aspettare da qualche anno a questa parte hanno sostanzialmente applicato un servizio di lettura digitale delle di quello che loro chiamano acta numero 4 e che è sostanzialmente quel documento che viene redatto al seggio elettorale e che fa l'elenco di tutti i voti di come i voti in quel determinato seggio sono stati assegnati ai vari partiti e quindi quanti voti il singolo partito ha ricevuto perché ti parlo di questo perché secondo la legge guatemalteca ogni partito può incaricare e incarica un garante che è presente all'atto della redazione di questo documento e di fatto quindi si assicura che non ci siano modifiche strane delle delle della trascrizione dei numeri dei vari voti quindi è una cosa che viene fatta a garanzia ogni partito può mandare un suo ispettore un suo incaricato questi documenti vengono firmati da tutti gli ispettori presenti e poi vengono mandati al distretto centrale vengono digitalizzati con un sistema ottico di lettura appunto del documento e poi contabilizzati e così si hanno i risultati delle elezioni ora è proprio qui che generalmente avviene il problema nelle scorse elezioni il sistema elettronico che era stato preparato per fare questa cosa era crollato miseramente sul carico di informazioni c'erano stati dei problemi che hanno portato addirittura a due arresti e quindi sostanzialmente i risultati che erano usciti erano stati accusati di frode proprio perché non c'era stato modo di verificare con mano l'autenticità di questi documenti o che non ci fossero state delle manomissioni quest'anno c'è una start-up che si chiama Fiscal Digital che si propone di fare questa cosa Guybrush tieniti forte utilizzando che cosa bitcoin bitcoin si ma come adesso ti spiego come funziona allora è fatta a due layer sostanzialmente il primo layer o questa cosa per succedere ha bisogno della collaborazione di qualcuno appunto che sia fisicamente presente in ogni seggio elettorale e che quindi faccia che cosa di fatto Guybrush una scansione dell'hash di questo documento finale e un timestamp sulla blockchain di bitcoin e come viene fatto questo mica con un volgarissimo ordinal ma in maniera i dati vengono memorizzati con dei merkel trees e l'hash e quindi solo l'hash di ogni documento non viene non c'è bloat aware quello che conta è che ci sia un timestamp che garantisca che a quel documento digitalizzato corrisponda sia stato digitalizzato per l'appunto in quel momento del tempo e dello spazio no immagino usando il protocollo open timestamp esattamente esattamente questo è il primo step come quindi viene fatto quello che da loro viene definito il layer 1 proprio con il protocollo open timestamps ok ora come si fa però a controllare quindi che i voti che vengono contabilizzati dal sistema tecnologico e informatico del governo corrispondano si tratta di fare un audit indipendente quindi quello che fiscal digital si propone di fare è di contare parallelamente tutti i voti in maniera digitale in modo tale da confrontare il loro audit quello di fiscal digital con i voti ufficiali che escono dal governo e qui il sistema diventa molto clever perché hanno studiato un'applicazione desktop che di fatto funziona come un cap come un cap che tra le altre cose ho scoperto che il cap è un'invenzione guatemalteca quindi giustamente se lo sanno fare come funziona? funziona tutti i colleghi a questa a questa pagina internet fai la registrazione e il sistema che cosa fa? ti propone un codice e la fotografia come se fosse come se fosse proprio un captcha dei numeri scritti a mano quindi 027 partito x 027 e tu devi scrivere a mano 027 e così via ma non di tutto il documento solo di piccole porzioni randomiche in modo tale che tu non sappia mai bene anche qui per evitare brogli dove era bravo che cosa stai digitalizzando dove in che distretto ok? ora ovviamente per fare questa cosa però ci vogliono un esercito di utenti disposti a dare il proprio tempo per compilare migliaia e migliaia e migliaia di captcha e quindi serve un incentivo e qual è questo incentivo? Satoshis dei Satoshis immagino fiscal digital ogni captcha che tu compili con successo ti dà 20 sat sul lightning network che tu puoi puoi riscattare bello è è una figata pazzesca sì sì bello allora unire il sistema elettorale al sistema decentralizzato è tanti anni che ci provano con fallimenti a volte anche imbarazzanti questo qua invece mi sembra un approccio abbastanza sicuro safe visto che la votazione comunque avviene in maniera classica è un modo per validare esatto validare è un audit esterno bello e tra le altre cose questa cosa qui è ovviamente sperimentale è la prima volta che viene fatto il Guatemala ha votato il 25 di giugno e ad oggi Fiscal Digital mentre stiamo registrando ha già ceccato l'83,14% dei voti quindi è fatta dopo solo una settimana quasi la totalità dei voti sono stati verificati e il sistema vi lascio il link nelle note dell'episodio già ti dice quanto quadrano i risultati in ogni singolo distretto l'esperimento Fiscal Digital ha coinvolto più di mille utenti che hanno quindi partecipato a questo captcha game per guadagnare satoshi sono state distribuiti dall'azienda 0,4 bitcoin a questi che hanno partecipato in questa fase che è super sperimentale il giochino era aperto soltanto al Guatemala ma teoricamente in futuro tutti possono partecipare non è necessario che siano guatemaltechi ah giusto sì beh il captcha lo può risolvere chiunque certo bella questa idea bella molto interessante bravi ma non sapevo neanche che il captcha fosse guatemalteco poi mi andrò a cercare questa nozione ebbene sì ebbene sì bravo ma dove l'hai scovata sta news e sai che io ho amici in Guatemala che mi tengono aggiornati tu hai gli agganci là in Centro America e tanti mesi che io sono a conoscenza del fatto che un gruppo di amici stava sviluppando questa idea l'ho seguita da vicino adesso finalmente l'hanno implementata è andato tutto bene l'hanno portata a casa mentre ci stiamo parlando stanno quasi per festeggiare perché si avvicinano al cento per cento era un rischio era un esperimento è andato tutto bene e quindi sono molto felice di poterlo raccontare vi lascio il sito di Fiscal Digital dove potete vedere anche avere maggiori informazioni su come questa cosa funziona raga la verità è che Bitcoin disintermedia talmente tante cose e potenzialmente è uno strumento talmente duttile che gli utilizzi che se ne possono fare sono impensabili io mai mi sarei immaginato un'applicazione di questo tipo Bitcoin come infrastruttura per fare audit di elezioni che avvengono nel mondo fisico è vero è vero sì sì è bello l'approccio che hanno avuto cioè quello di non sbraccare stile ordinal stile stamps e quelle cagate lì ma di rispettare comunque la tecnologia nelle sue funzionalità principali questo è importante significa che sono dei Bitcoin che hanno avuto quest'idea to the core hard core Bitcoin maximalists si capisce dall'approccio ecco e va bene va bene caro mio senti senti Guybrush 177.617 satoshi sono è la donazione del nostro amico che non si firma ma che noi chiameremo il TikToker perché ci scrive ciao raga finalmente mi sono messo in pari con le vostre puntate giusto in tempo per TikToker bravo 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 sei tu caro amico TikToker il mecenate del 26esimo episodio della quinta stagione del Bip Show grazie alla tua donazione supportare il Bip Show è un imperativo assoluto per chi crede nella nostra missione il sito è sempre il solito www.bip.show lì potete trovare la sezione support dove potete scoprire tutti i modi con cui potete supportarci comprando su Amazon partendo dal nostro link che trovate in quella pagina e poi comprando quello che vi pare donazioni on chain donazioni lightning e anche volgare fiat perché no per il momento grazie a una donazione Paypal scegliete voi ogni quanto scegliete voi quanto scegliete voi tutto ragazzi ciò che importa è che se siamo per voi un appuntamento settimanale fisso se stiamo contribuendo alla vostra formazione in bitcoin se siamo diventati voci amiche allora dai ragazzi tocca ammetterlo è giusto che un tollino ogni tanto voi ce lo lasciate perché è importante è anche grazie alle vostre donazioni che noi riusciamo a fare quello che facciamo sempre di più e sempre meglio caro tiktoker tu sei il mecenate di questo episodio perché chi fa la donazione top della settimana ha anche il merito di potersi freggiare di questo titolo per te l'onore e l'onere di vedere il tuo nome scolpito nel travertino digitale delle note del nostro episodio scriveteci posta del cuore al nostro edilizio di mail show chiacciolabip.show ingaggiate con noi i fantastici flame su twitter il nostro handle è bip underscore show bitcoin italia podcast e quelli nostri personali sono gai brascino e ricchi 6 i x x seguiteci su instagram seguiteci sul nostro canale youtube seguiteci sul nostro canale tiktok è un canale si dice canale tiktok si si credo di si canale tiktok seguiteci per strada no per strada non seguiteci perché poi dopo scatta la denuncia per stalking insomma seguiteci 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 sai dove ci devono seguire soprattutto guy brush no non lo so dove verso la nostra destinazione finale amico mio che è sempre quella inarrestabile ineluttabile brother here we go to the moon ciao boom ciao ciao Grazie.